Odoardi, un referendum, una legge regionale, ma la nuova Pescara non ancora decolla. Perché? Quali le responsabilità? Direi che sotto gli occhi di tutti non c'è neanche quasi bisogno di raccontarlo. Purtroppo le responsabilità sono di una parte del personale politico che non si prende le proprie responsabilità e che soprattutto non fa il proprio lavoro, il lavoro per il quale è stato eletto. Ci sono delle commissioni che sono state istituite intercomunali per poter programmare e progettare la nuova Pescara. Queste commissioni regolarmente vanno deserte o comunque non deserte ma senza numero legale perché c'è una quota di consiglieri che partecipa, ma purtroppo non è sufficiente. È anche deprimente nei confronti degli stessi presidenti delle commissioni che si trovano a convocare e dover chiudere la commissione per mancanza di numero legale. Oggettivamente è anche imbarazzante perché il rifiutarsi di svolgere il proprio lavoro e il proprio compito assegnato dai cittadini oggettivamente lascia la mare in bocca. Al governatore che si è espresso sempre in maniera favorevole alla nuova Pescara perché quando in campagna elettorale è venuto in Confindustria e ha parlato io gli ho chiesto cosa avrebbe fatto per nuova Pescara e lui ha risposto che nuova Pescara andava fatta assolutamente perché c'era una legge e perché c'era stato il referendum. Noi gli chiediamo la nomina immediata di un commissario ad acta, quindi non un commissario prefettizio previsto alla fine dell'iter della legge, quindi 2024, ma un commissario ad acta che arrivi subito, spogli i consigli comunali dall'incombenza di nuova Pescara e ridia vigore a questo iter di legge che, si badi bene, avrebbe visto la politica protagonista della fusione ma la politica cittadina, la politica dei tre comuni, una parte della politica non ha saputo interpretarla e quindi è giusto che adesso venga messa da parte.